Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento seminariale del nostro progetto laboratoriale di pedagogia dell'antimafia. Anche questa sera diciamo abbiamo deciso eh con il relatore del seminario di uscire fuori dalle nostre piattaforme di eh lavoro digitale perché il tema lo merita, perché i contenuti del testo che questa sera è per così dire un po' il filo conduttore della nostra narrazione lo merita. Guardate vi dico subito così entriamo immediatamente nei contenuti ma mandrangheta non è un semplice libro perché in realtà è enciclopedico cioè noi parliamo di un'opera scientifica che ha settecento pagine. Praticamente il dottore Arcangelo Badolati che è giornalista, capo della redazione Cosentina di Gazzetta del Sud ma è scrittore e saggista in realtà colma un vuoto storiografico facendo una radiografia storico sociale a tutta l'evoluzione del fenomeno eh diciamo criminale dimatrice mafiosa dimatrice indranghetista concentrandosi poi ecco su questa parte della Calabria che ha sempre avuto per così dire eh un approccio assolutamente riduttivo sul piano storiografico. La mafia a Cosenza non esiste, si diceva, così si raccontava a noi eh ragazzetti, non ha una tradizione criminale, non ha un modello di condizionamento della realtà sociale come ad esempio quella regina o del vibonese o del crotonese e priva di grandi relazioni nel traffico di droga a livello diciamo globale. In realtà il lavoro del dottore Arcangelo eh Badolati diciamo colma questa lacuna restituendoci una quantità straordinaria di informazioni che hanno dato vita a un'enciclopedia praticamente attualissima di settecento pagine. Quindi parliamo di qualcosa di impegnativo sul piano dei contenuti e sul piano della ricostruzione storica perché si parla di legami con la realtà politica, con la realtà imprenditoriale, si parla della dimensione per esempio poco indagata storicamente no? Delle donne di indrangheta e quindi diciamo anche in questa direzione costituisce una pista di ricerca assolutamente importante. Oltre questo diciamo c'è una no una diciamo novità interessante. Vi facciamo vedere il manifestino. In realtà quest'iniziativa patrocinata diciamo dal nostro percorso di antimafia del Dipartimento di Cultura, Educazione e Società però è un'iniziativa pensata con l'osservatorio nazionale sui fenomeni mafiosi Falcone e Borsellino di cui il dottor Badolati dirige il comitato scientifico. È una struttura diciamo importante che recupera no? Un lavoro fatto da Carlo Mellea no? In anni e anni anche così difficili di solitudine. Ecco questa esperienza è stata pienamente recuperata alla Calabria e il dottor Badolati diciamo ne rappresenta uno dei volti diciamo principali e quindi abbiamo inteso no? Costruire no? Questa diciamo riflessione questa sera anche in modo plurale mettendo in relazione tutta una serie di soggetti istituzionali impegnati da tempo nel contrasto alla cultura mafiosa. Allora intanto ringraziamo il dottor Badolati e partiamo diciamo con la prima domanda perché fare intanto un testo di 700 pagine quindi un'enciclopedia no? Di storia dell'andrangheta calabrese? Ma intanto buonasera e grazie per avermi invitato un po' poi io torno a casa nel senso che pedagogia dell'antimafia ancora prima pedagogia della resistenza fanno parte anche un po' della mia vita abbiamo diviso momenti molto importanti abbiamo istituito un premio che era dedicato a Rosario Olivatino il giudice cattolico ragazzino ammazzato eh ad agrigento eh parlare di indrangheta nell'alta Calabria quindi nella parte settentrionale della regione sembrava fino a qualche tempo fa impossibile c'era una sorta di categoria del negazionismo si riduceva intanto proprio semanticamente eh l'andrangheta ha mala se tu incontravi qualcuno negli anni novanta per strada e chiedevi di questo o quel boss magari pluri omicida ti dicevano sì quello fa parte della mala nel linguaggio stesso del giornalismo di quell'epoca e fino a quell'epoca l'andrangheta abruzia veniva chiamata eh riduttivamente mala invece è un'andrangheta ecco perché un volume eh tanto esteso è un'andrangheta che ha una radice storica molto profonda perché tra i primi processi celebrati in Calabria contro la picciotteria così si chiamava un tempo eh l'andrangheta figurano processi eh celebrati a Palmi a Reggio Calabria a Nicastro che l'odierna la mezzia termine è pensate e tremate a Cosenza. Cosenza gli atti di quel progetto che io ho avuto modo ovviamente di studiare ma di cui parlano anche altri autori devo dire eh con grande serietà ed impegno dal punto di vista anche dello studio ne parlano Francesco Caravetta ne parla Claudio Dione Salvi ne parlano eh Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e Valerio Giardina ecco in quegli anni quella picciotteria era retta da due personaggi eh centrali uno si chiamava Francesco Francesco e Francesco ed un altro Stanislao De Luca detto Don Stano era un abbreviativo ovviamente eh come dire reso più importante dal Don del nome eh proprio in quegli anni attraverso lo studio delle carte di quel processo si trovano i prodromi eh dell'andrangheta moderna quindi un'organizzazione che aveva una sua finta sacralità col giuramento con la ripetizione di formule astruse ma importanti per cementificare i rapporti avevano tra l'altro relazioni con eh il mondo politico ed avevano quegli indranghettisti antelitteram avevano pure ovviamente strumenti rimasti poi sempre uguali per eh guadagnare denaro da inserire nella bacinella eh comune uno di questi strumenti era l'esercizio dell'estorsione che veniva attuato contro i commercianti ambulanti eppure in quell'andrangheta come poi la tradizione dimostrerà nel tempo il riferimento alla eh criminalità organizzata a Cosentina pure in quell'andrangheta antica comparivano i pentiti c'è un primo pentito che è straordinario perché racconta proprio tutto come come entrò in contatto con questi cosa dovette subire come si comportavano eh quali erano i loro giuramenti questo pentito eh si chiamava Battista Martellotti e fece parte di questa picciotteria che dominò a lungo cosenza. La cosa che più stupisce da questo processo è una costante che voi rilevate eh in tutte le mafie nel mondo cioè una mafia non è tale cioè non è invasiva non riesce a condizionare il sistema economico di una società e quindi anche quello politico se non ha relazioni con il potere. Quella mafia dei primi del nuovo evento sgominata disarticolata attraverso questo coraggioso processo istruito eh davanti ai giudici di Cosenza è una mafia che testimonia di questi rapporti tant'è che a difendere in aula e quindi a rendere testimonianza al discolpa del capo dell'epoca di uno dei due capi cioè di Stanislao De Luca di Don Stano venne a deporre il parlamentare del regno Nicola Spada che oltre ad essere un parlamentare del regno quindi un deputato era anche appartenente ad una famiglia nobilissima e rispettata che come dire aveva eh le sue radici eh profondamente affondate nel corso dei secoli in relazione alla città Abruzza e venne difeso Don Stano De Luca da un altro personaggio importante che non solo era un avvocato ma era pure il sindaco di Cosenza e cioè Luigi Fera. In entrambi i casi eh diciamo eh i due testimoni eccellenti l'uno come avvocato l'altro proprio come test in aula eh cercarono devo dire senza successo di accreditare la tesi che appunto Stano De Luca non fosse un malavitoso ma tutt'altro fosse anzi una persona dedita a fare beneficenza se non proprio beneficenza quasi perché difendeva i poveri eccetera i deboli la solita storia del rubinù dei noi altri. Eh cosa emerge pure eh da quel processo ed è importante appunto conoscere il retroscena. Emerge pure che tra le carte recuperate dagli investigatori eh di quell'epoca lontana fu trovata la canzone della malavita quindi come con i neomelodici più moderni come col canto della lupara che trovate ancora durante le feste patronali nei paesini della Calabria esposto no? Sulle bancarelle dei commercianti ambulanti anche quella mafia aveva la sua canzone in cui si raccontava di questi picciotti chiusi nella galera che erano costretti a sopportare le ingiustizie di questo Stato le stesse cose che poi troveremo in epoca più moderna. Cosa accade eh successivamente finita questa parte d'indrangheta diciamo legata a questi due eh personaggi arriva il fascismo il fascismo che è un potere forte non può tollerare l'esistenza di un contropotere dunque i mafiosi vengono in qualche maniera eh schiacciati eh messi in un angolo e se non eh come dire eh riescono a stare in un angolo cercano in qualche maniera di diventare serventi rispetto al al potere eh dominante quindi si camuffano lungo tutto quel periodo anche se quel periodo emergono dei personaggi importanti eh forti come per esempio Luigi Pennino Luigi Pennino è eh un'ondranghetista all'antica che eh ecco non immaginereste mai oggi implicato in un traffico di droga ma è un risolutore di questioni private cioè un amministratore di giustizia privata cioè si inserisce nella vita dei quartieri di Cosenza per mettere a posto le cose e eh diciamo quando è necessario salutare il coltello insomma è eh di rimere le controversie con eh la violenza il classico uomo di rispetto verranno anni successivi di modernizzazione verranno tempi diversi arriveranno più soldi e incontreremo sulla strada evolutiva della mafia cosentina diciamo Luigi Palermo detto Zorro che è un po' il capo di tutti eh che ha conoscenza che per avere fatto il carcere anche in altre eh province ma che eh vuole tutto per sé cioè assume come tutti i capi carismatici un ruolo centrale che mal viene sopportato da un eh diciamo scalpitante picciotto tra l'altro senza tradizione familiare nella picciotteria non è figlio di mafiosi e ospitanti tali ma è figlio di un macellaio di una maestra elementare che si chiama Franco Pino ma è intelligente diabolicamente intelligente quanto suo fratello Pietro Pino un personaggio dimenticato ma eh di una diabolicità e di un'intelligenza fuori dal comune che poi andrà a sfernare a Torino e poi scomparirà facendosi dimenticare andando in Germania Franco Pino non vuole soggiagere alle regole di Luigi Palermo e organizza una rivolta interna e la classica dinamica delle organizzazioni mafiosi a conferma della mafiosità della criminalità organizzata eh cosentina è un po' quello che fa John Gotti con Paul Castellano per Cosa Nostra americana cioè John Gotti uccide il capo che è Paul Castellano per prenderne il posto eh Franco Pino organizza l'omicidio di Luigi Palermo le forze dell'ordine dell'epoca eh riescono ad individuarlo come responsabile e l'arrestano insieme ad un altro ma misteriosamente questo diciamo provvedimento eh d'arresto eh questa azione giudiziaria poi scompare nel come dire nel ventre polveroso della giustizia di quegli anni eh Luigi Palermo viene ammazzato nel mil novecentosettantasette Pino alla fine della sua carriera criminale avrà sul prima ovviamente di collaborare con la giustizia avrà sul suo certificato penale pochissime cose insomma certamente non l'omicidio di Palermo né tanti altri omicidi che pure ha ordinato o eseguito personalmente nasce questa nuova andrangheta nasce dalla morte di questo boss e da una guerra fortissima e durissima che scoppia tra i seguaci di Palermo tra cui Franco Perna personaggio a sua volta carismatico soprattutto irriducibile capo della mafia eh cosentina che si scontra insieme al gruppo guidato dai fratelli Pranno insieme al gruppo eh diciamo che fa capo ai fratelli Vitelli e tutti i loro eh collegati personaggi Francesco Tedesco insomma e tanti altri con la Belmonte insomma tanta gente che gravitava in quell'ambiente si scontra con Franco Pino che invece vuole fare il capo è dinamico intelligente imprenditoriale eccetera che trova a spalla in eh in diciamo Antonio Sena Don Tonino Sena Don Antonio Sena Don Antonio Sena il quale viene eh come dire a diventare il il simbolo l'elemento di riconoscimento del clan più Pino che è il vero capo perché perché Antonio Sena è un vecchio eh malavitoso che ha fatto carcere e che è ben visto tra l'altro anche dalle dalle cosche delle altre zone eh della Calabria e lui che fa da apripista tra Franco Pino e le cosche della piana di Gioia Tauro intendo per cosche della piana di Gioia Tauro soprattutto i piromali il patriziato diciamo eh dell'andrangheta calabrese con i mancuso cioè un personaggio che facendo carcere ha conosciuto tantissima gente era amico anche di Frenze Setturatello camminava con un bastone che diceva gli fosse stato donato proprio da Frenze Setturatello no faccia d'angelo capo della mala milanese conosciuto pure lui in carcere lo scontro è uno scontro fratricida attenzione in quella cosenza di quegli anni ma non solo nella città a capoluogo ma anche dalle due eh rive eh del mare sulle due rive del mare lungo la fascia tirrenica e quella ionica questo scontro tra i clan eh si allarga si allarga fin laggiù perché eh Pino conta eh sulla fascia tirrenica sull'appoggio di Nelso Basile e di Romeo e Marcello Calvano invece il gruppo perna conta sull'appoggio di Mario Serpa personaggio storico dell'andrangheta del Palano Pino e Sena contano pure sull'appoggio di Franco Muto il re del pesce eh come dire storicamente il personaggio di più rilievo di quell'area che a sua volta proprio per la lunga carcerazione patita di rivieni dai penitenziari è diventato amico dei siciliani e si dice che per un certo periodo addirittura eh si sedesse insieme a Nitto Santa Paola i componenti della cupola eh siciliana sul lato ionico lo sconto si riverbera perché appunto eh eh diciamo Franco Pino trova l'appoggio di eh Giuseppe Cirillo che diventerà il capo del locale di Sibari per locale Sibari intendiamo un'organizzazione mafiosa che controlla da Castrovilla a Rialtomonte a scendere Cassano Sibari Trebisacce Corigliano Rossano Cariati cioè un diciamo un andrina eh una una un locale davvero eh di serie A e eh il gruppo Pino sconfigge per il tramite di Cirillo che si insiede da là i fratelli di Spina che invece sono eh alleati del del gruppo perna questo il 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 contesto storico questa prima evoluzione qual è il dato di questa andrangheta? Intanto un'andrangheta che mentre si scontra ha legami con eh eh personaggi di altre zone per esempio i killer di Franco Pino vanno ad eseguire degli omicidi per conto della cosca eh principe della piana di Gioia Tauro che è impegnata nella sua città cioè Gioia Tauro in una faida con la famiglia Tripodi ed è proprio Pino a raccontarlo manda due suoi killer ad ammazzare uno dei Tripodi che arriva a Sanremo. I killer della famiglia principe della piana di Gioia Tauro arrivano a Cosenza per uccidere il contabile del gruppo perna l'uomo che è più vicino a Franchino Perna che si chiama Carlo Rotunno che viene ammazzato da due killer eh di Gioia Tauro l'omicidio rimane impunito perché gli imputati verranno assolti con sentenza definitiva al termine del maxiprocesso Gardner il primo grande maxiprocesso in cui la parola mafia entra nel senso di indrangheta entra nel linguaggio eh comune giudiziario di Cosenza con una serie di resistenze di colpi di scena di tentative di incalciare l'azione della TDA che eh ci vorrebbero altre quattro incontri per raccontarveli e in quel caso appunto vengono assolti questi due killer di Gioia Tauro e nell'omicidio di Carlo Rotundo viene ammazzato pure uno sventurato che non c'entrava niente che era lì in quella zona a comprare un vestito per la prima comunione del figlio faceva il custode in un museo di Venezia che viene ucciso da una pallottola eh vagante come dire una vittima eh collaterale qual è eh l'elemento che differenzia quella andrangheta e l'andrangheta che verrà eh cosentina quindi andrangheta moderna da quella della provincia di Reggio Calabria da quella della provincia di Crotone da quella del Vibonese cito tre clan del Vibonese per farvi capire eh gli Emanuele di Gero Carne, Mancuso di eh Limbadi, La Rosa di Tropea, Ilo Bianco eh di Vibbo Valenza. La differenza è che le cosche cosentine non hanno legami di sangue cioè gli appartenenti ai clan che si lotteranno lungamente ma anche di quel che resterà alla fine della guerra non hanno fra di loro rapporti parentali tranne in qualche caso ma non hanno questo solito legame che viene dal sandwich cioè dal matrimonio della figlia di un capo col figlio dell'altro capo del picciotto più 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 diciamo più sveglio e azionista con la figlia dell'altro picciotto altrettanto importante con tutto questo non lo trovate e allora quando lo Stato scatenerà la sua offensiva finalmente un'offensiva che arriverà tra il 94 e il 95 in grandissimo ritardo un'offensiva che poteva essere fatta nel 1986 quando dopo l'omicidio che è un fatto attuale perché c'è il processo in corso dopo l'omicidio di Francesco Lenti e Marcello Gigliotti due picciotti vicini al clan eh di Franco Pino entrambi con simpatie per l'estremismo di destra con Gigliotti che credeva un po' di essere eh come un mezzo terrorista nero e mezzo mafioso quindi sparava era un po' matto faceva delle cose uscendo fuori controllo eh nel 1986 questi due vengono convocati in un casolare di rende e ammazzati dal eh dal gruppo di Franco Pino Franco Pino è ancora in galera vengono uccisi proprio perché si stanno rendendo troppo autonomi addirittura uno dei due viene decapitato con una falce l'altro torturato e costretto a rendere dichiarazioni su una cassetta che aveva registrato in cui aveva raccolto una serie di accusi contro il clan che non verrà trovata e quindi verranno uccisi il loro più caro amico che si chiama Antonio De Rose dopo la morte di questi due che saranno trovati i cui resti saranno trovati sulla montagna dell'Appennino Paolano deciderà di collaborare con la giustizia e dirà delle cose che si riveleranno diciamo verissime nel senso che eh eh tutto quello che De Rose racconterà nel 1986 ai carabinieri che tenteranno in tutti i modi di gestirlo bene ma che non riusciranno a gestirlo bene per una serie di condizionamenti gravissimi e di interferenze fatte da una magistratura intanto non all'altezza in secondo luogo connivente e corrotta perché le colpe della situazione che si trova la Calabria adesso sono dovute anche a certa magistratura deviata e corrotta non riusciranno appunto nel loro intento tant'è che De Rose verrà depotenziato totalmente messo da canto e dimenticato quando Roberto Pagano Dario e Nicolai Notargiacomo eh collaboreranno con la giustizia nel 93 nel 94 racconteranno delle cose che sono perfettamente sovrapponibili a quelle dette nel 1986 da Antonio De Rose quindi quando scatterà quest'operazione Garden è di seguito l'operazione Galassia quindi la Galassia contro l'area Iconica, la Garden contro tutta l'area centrale del Cosentino, Cosenza compresa e arriveranno gli arresti e si prospetterà la possibilità che eh come dire che tutto finisca male cioè che gli argastoli cadano a pioggia alcuni decideranno di collaborare con la giustizia non hanno nulla da perdere non accusano i loro cugini, i loro fratelli, i loro cognati perché non c'è all'interno dell'Andrangheta questo Cosentina, questo sistema di relazioni parentali, questo familismo amorale chiamatelo come volete, questi legami di sangue che cementano ogni cosa e quindi giustificano eh il silenzio, l'omertà seguente anche agli arresti che abbiamo visto nella piana di Gioetaro, tra l'altro eh diciamo tenete anche conto che nel Regino insomma i livelli dei pentiti non sono livelli alti, non abbiamo un grande boss che collabora con la giustizia, non è così, non ci sono questi livelli eh e si arriva quasi a un medio alto ma mai insomma un grande boss, l'unico è stato Saverio Mammoliti di Oppido Mamertina che tuttavia eh diciamo ha eh collaborato ma poi eh ritrattato, non posso Saverio Mammoliti autore del sequestro di Polghetti Junor a Roma negli anni settanta, il primo grande sequestro fatto dall'Andrangheta Calabresia, allora arriveranno eh questi pentimenti ma verrà anche qui eh come dire eh attuata una strategia che vi spiego perché è una strategia importante dal punto di vista tecnico processuale, i mafiosi dopo il pentimento di Franco Pino, di Umile Arturi il suo braccio destro, di Franco Garofalo il braccio destro di Perna, di Francesco Tedesco vicino ai fratelli Pranno e Vitelli, dei fratelli Vitelli, Peppino Vitelli, il killer che sparava, avevo confesso di 16 omicidi, amato dalle donne cosentine, fidanzato con una nipote, il procuratore della Repubblica dell'epoca, proprietario di discoteche a Cosenze sulla costa eccetera, il fratello Francesco Saverio veramente del gruppo, insomma quando questi si pentiranno quelli dentro studiano una strategia, la propongono e ottengono di attuarla ed è la strategia della dissociazione, vedete quando i corlionesi tentano una mossa del genere per salvarsi negli anni successivi dopo la cattura di Rina e quindi istituzione e di istituzione di questi grandi processi, lo Stato si presenta con la faccia del compianto Pierluigi Vigna che era procuratore nazionale antimafia e dice a questi andatevene a casa, invece a Cosenza i boss ottengono la dissociazione, che significa niente, che ammettono i delitti di cui sono accusati senza accusare nessun altro e ottengono come era stato per i terroristi durante il periodo del terrorismo, della lotta al terrorismo e ottengono sconti di pena, quindi un'esperiente mai più attuato in nessun processo per mafia in Italia, un esperiente fallito pensate a Palermo, quindi nella Sicilia più profonda, più mafiosa possibile, riuscito invece in questa città nella quale si diceva che la mafia non esiste e andiamo a questo tema, la mafia non esiste, beh esiste come? Resisteva la mafia, tant'è che non si poteva uscita per strada, tra il 77 e l'86 muoversi a Cosenza era problematico a dir poco, ammazzavano la gente sul Corso Mazzini, un omicidio per tutti e lo sconnetti, un altro omicidio è venuto qui, Antonio Paese, cioè proprio per strada sul Corso Mazzini in pieno centro, si sparava ogni giorno, si poteva morire dappertutto, si poteva morire per errore come è successo a quel poveraccio ucciso mentre fu teso lagguato a Carlo Rotundo, contabile di Franco Perra, in questo gravissimo contesto con omicidi che avvenivano pure nell'area del Paolano, nella Sibaritide, omicidi di imprenditori, omicidi di bambini come quello avvenuto in Elefante Rosso di Renda nel 1978, mentre c'era Giuseppe Cirillo a cena con Gildo Perri che era un imprenditore vicino a Cirillo, entrano i killer e sparano e ammazzano il figlio Letto Pasqualino Perri di 11 anni, figlio di Gildo Perri, ammazzati bambini, vittime in continuazione in questo contesto pazzesco, un contesto al quale si aggiungeranno omicidi eccellenti perché verrà ucciso nel giugno del 1980 Giannino Rosardo a Cetraro perché ostacola le azioni della cosca dominante, la cosca muto di Cetraro, cosca che ha relazioni con il potere anche con il potere giudiziario, oltre che con il potere politico, ma non certo con la parte che fa capo a Giannino Rosardo, viene ammazzato a Cosenza nel 1982 uno dei più bravi avvocati che ci fossero, Silvio Sesti, ucciso in via Limena nel suo studio, quasi davanti agli occhi atterriti del figlio, ucciso da due killere napoletani, due killere della nuova camora organizzata, perché il gruppo Pino per rafforzarsi non solo era entrato in rapporti con, visto la di ebullicità del capo, cioè di Franco Pino, non solo con i compari della piana di Gioia Tauro e di Reggio Calabria, con il gruppo Tegano Libri e Stefano, ma era entrato in contatto pure con Raffaele Cuto, Raffaele Cuto lo mandava a svernare, a nascondersi qui i suoi latitanti e Pino che faceva? Utilizzava questi latitanti, lui e il suo gruppo, in particolare Nelson Basile che li ospitava a San Lucido, li utilizzava per fare i delitti, perché una vittima designata non li riconosceva come pericolo, perché erano facce sconosciute, per cui riuscivano ad avvicinare le vittime con facilità, così hanno fatto con lo sventurato avvocato Sesti, due killer napoletani portati sul posto da Francesco Pagano, che era a sua volta un uomo di fiducia di Pino, poi ammazzato nel 91 in un autolavaggio di via Popilia, ma soprattutto un uomo che per Pino avrebbe agito a Napoli, così raccontano i fatti giudiziari, per regolare dei conti che erano dei conti dell'NCO, quindi c'era questo scambio di chi? L'82 e l'avvocato Sesti nel 1985 addirittura il colpo più terribile e mortale, cioè l'uccisione del direttore del carcere, Sergio Cosmani, quel carcere che era stato esattamente il carcere che descriveva Fabrizio D'Andrea in quella bellissima canzone dedicata a Don Raffaea al caffè che li portavano in cella, carcere di Cosenza che era né più né meno la poggio reale, il poggio reale di Raffaele Cutolo, ci succedeva di tutto, a parte quello che arrivava a champagne, ostri, mangiare dai migliori ristoranti, lì avvenivano affiliazioni, sparatorie, ci succedeva di tutto in quel caso, quando arriva Cosmai che è un servitore dello Stato avulso dal contesto che è sempre quello, il contesto cosentino è sempre un contesto di intrecci, di poteri che non confliggono, che si strusciano con l'altro, che si intersecano, Cosmai è fuori da questo giro, che coinvolge imprenditori, che coinvolge professionisti, che coinvolge politici, è un servitore dello Stato, lì cerca di mettere ordine, il fatto non viene tollerato da Perno e che ne ordine l'assassinio, viene ammazzato il 12 marzo 1985. In questo contesto terrificante, la classe politica cosentina, intendo di Cosenza città, nega l'esistenza della mafia. Gli uomini più rappresentativi di questa classe politica, che ricoprono incarichi di governo importantissimi, dicono che non c'è la mafia a Cosenza, che la mafia è più sotto del Reggio Calabria. Quella di Cosenza non è una mafia, invece è una mafia eccome, che si muove secondo codici, che ha suoi simbolismi, che opera con gli stessi strumenti, che usano le altre organizzazioni mafiose delle altre province della Calabria, ma che soprattutto ha con queste altre organizzazioni mafiosi intensissimi rapporti. Da affari, rapporti di scambi di killer e quindi una mafia a tutti gli effetti, che trova poi una sua dimensione unitaria quando viene sancita la pace. Dal 1986 in avanti queste cose che opereranno insieme. Secondo lo schema più caro alla drangheta moderna, cioè gestire subappalti collegati ai lavori pubblici, non far mettere un mattone né di edilizia privata né pubblica se non si paga la mazzetta. Controllare il voto e appoggiare politici che possono comunque garantire, sia in sede comunale, provinciale, regionale, parlamentare coperture e vantaggi a queste cose. Una mafia dunque modernistica e al tempo stesso spietata. Sì, una mafia che è spietata perché ammazza pure esponenti politici. Ci sono alcune cose che sono state incredibilmente dimenticate nella storia della mafia calabrese. E viene ucciso in un circolo ricreativo di Rogers e di Rende. Pino Chiappetta, che è consigliere comunale della democrazia cristiana di Rende, che è fratello dei Chiappetta, imprenditori importanti di Rende. Viene ammazzato lì perché? Perché ha osato frapporsi tra le aziende e quindi gli interessi delle cosche dell'andrangheta e i lavori che sono stati decisi per la costruzione del CUD. Quest'altra montagna di denaro pubblico bruciata in ragione del clienterismo più sfrenato, delle pratiche politiche più vergognose che siano state attuate in questa regione. La costruzione di quel monumento al nulla, oggi salvato dal fatto che ospita in un'ala almeno la fondazione di Franco e Matilde Manzino, Manzino che sono due persone straordinarie. Per il resto inutile, la costruzione costa la morte a questo consigliere comunale democrazia. Quindi vedete una mafia, altro che non c'è o differente, una mafia che impone le tangenti a chi costruisce la 107, Silano Crotonese, una mafia che impone le mazzette a chi fa lavori nelle gallerie autostradali, la stessa mafia che si presenta pronta a chiedere a battere cassa quando vengono decisi la voglia di ammodernamento. Pure questo è un fatto dimenticato, la costruzione del Mediterraneo, tutte quelle scemenze scritte sui cartelli lungo l'autostrada per rappresentare uno schifo che schifo è rimasto perché dopo che hanno buttato centinaia di milioni di euro continuiamo ogni volta che prendiamo l'autostrada a trovare interruzione per lavoro in corso, dopo che hanno vergognosamente inaugurato quell'autostrada come finita con un pullman pieno di ministri e di rappresentanti politici e istituzionali, i lavori continuano ad oltranza per far arricchire chissà chi, lo scopriremo quando arriveranno a compimento le indagini della magistratura. Quindi una mafia modernissima, ma è una mafia cosentina che non solo ha relazioni con gli altri clan della regione. Accennavo a Franco Muto, amico di Nitto Santa Paola, seduto a Siso a volte durante le riunioni così raccontano della commissione di Cosa Nostra, Franco Muto omaggiato pure quando sta a Napoli ricoverato in ospedale degli uomini della Camorra, ma c'è un rapporto che fa paura tra la mafia cosentina così a lungo sottovalutata, quella negata da questi politici con i siciliani, i siciliani peggiori, quelli più spietati, i corleonesi. A passeggio per le strade dell'elegante cosenza, insanguinata però, ci sono per esempio personaggi come Giovanni Drago, killer di fiducia, dei fratelli Graviano, di Brancaccio, quelli che hanno ordinato l'omicidio, oltre che le stragi, ma l'omicidio di Don Pino Puglisi. C'è Giovanni Drago, c'è Pino Marchese che cammina a cosenza, il cognato di De Luca Bagarella, altro killer rispettato dei corleonesi. I Graviano vengono in vacanza qua e fanno i giri in Sila e pensano mentre sono insieme i fratelli Dario e Nicolò Natal Giacomo, Stefano e Giuseppe Bartolomeo che la Sila è il posto ideale per nascondere Uzzitotò, cioè Totò Riina, il secolo Totò Curto, il capo della mafia siciliana e dei corleonesi. E tutto avviene sotto gli occhi di persone che negano l'esistenza della mafia, che negano la realtà che è sotto i loro occhi, la violenza che si è vissuta in quegli anni. Una mafia che, quando è necessario eliminare personaggi scomodi, non esita a ricorrere alla distruzione dei cadaveri, come succede proprio ai fratelli Stefano e Giuseppe Bartolomeo, squagliati in un bidone come fossero, dati in pasti ai maiali, come raccontano i collaboratori usciti dalle cosche. Una mafia che non esita a sparare dappertutto. A scalea bisogna eliminare un reggino che in rotta con le cosche dominanti reggio Calabria si è rifugiato a scalea, ci pensano agli uomini di Pino, attentato, uccisione, duplice omicidio di Valente Saffioti e del suo accompagnatore. Cioè questa è quella mafia che veniva negata, una mafia che uccide anche le donne e lo fa in tempi più recenti, più moderni. Lo fa ammazzando, per esempio, Silvia Marco insieme al marito Sergio Perri. Vengono uccisi dopo la cosiddetta strage di via Popilia, compiuta in via Popilia nel novembre del 2000. Una settimana di distanza vengono uccisi questi due imprenditori, Merita e Moglia, perché il commando che ha ucciso in via Popilia Benito Aldo Chiodo e Francesco Tucci ha nascosto la macchina in una tema sotto una montagna di sabbia del cantiere di Sergio Perri e Silvana De Marco. Una mafia che uccide altre donne, due donne, e lo fa in un modo, come dire, terrificante. È l'uccisione di Barbara e Rossellina Indrieri. Barbara, la più giovane, la figlia di Rossellina, rimane penzolante su un balcone di San Lorenzo del Vallo, un'immagine che ti giro del mondo. Cioè li inseguono fino al balcone e le sparano in testa. Perché? Perché sono esattamente la cognata e la nipote di uno scriteriato commerciante che ha ammazzato qualche tempo prima Domenico Presta, figlio del super boss e killer Francesco Presta, oggi condannato all'ergastolo con sentenza definitiva e detenuto al 41 bis. In quello stesso luogo qualche due donne vengono ammazzate. Più recentemente, Maria Ida Attanasio è la madre, uccise in un cimitero. Perché rispettivamente madre e sorella di Francesco Attanasio, ritenuto responsabile di un omicidio avvenuto a renda nei confronti di un personaggio che viene visto come gravitante negli ambienti criminali. Per questo duplice omicidio al femminile e per quello precedente verranno condannati con sentenza all'ergastolo personaggi diversi, ma tutti assicurate della giustizia e tutti condannati. Poi c'è, come dire, quell'altro mondo, l'altro mondo diciamo che non si vede, che è il mondo raccontato da due laboratori che si sono intanto sviluppati questa idea della cara. Un ultimo appunto a proposito di legami di questa mafia negata, tenuta sotto traccia volontariamente, un potere politico che colludeva e prendeva i voti dei nefiosi. Questa è una mafia che è stata in grado pure di avere collegamenti stabili con i lupi grigi. Sapete chi sono i lupi grigi? Sono un'organizzazione terroristica di estrema destra turca, l'organizzazione di cui faceva parte Ali Hakcha, l'uomo che ha sparato a Giovanni Paolo II in piazza, San Pietro. Un'organizzazione che forniva a questa mafia droga. I lupi grigi. Sembra impossibile, ma è così. Come il gruppo graviano e quindi i collonesi fornivano armi ai cosentini, i cosentini fornivano ai collonesi droga. Ci sono fatti storici questi acclarati assolutamente per via giudiziaria. A un certo punto, poi approfondiamo il tema che avevo introdotto prima, a un certo punto si scopre pure che in questi legami siciliani compare un nome che fa tremare la via nei posti di tutti e che è il sogno di tutti i giudici, di tutti gli investigatori italiani, il sogno di poterlo catturare. Viene fuori il nome di Matteo Messina Denaro. Le squadre mobili di Palermo e Trapani piombano a Mendicino, nella mena Mendicino, dove sono stati costruiti degli appartamenti da un imprenditore che poi è stato arrestato e è tuttora detenuto, di cui qualcuno si era dimenticato di notificare la misura di prevenzione, quindi questo faceva l'imprenditore, compie una perquisizione lì perché sono convinti che vi sia nascosto Matteo Messina Denaro. E a chi è come me ha scritto questa cosa, subendo tre processi, perché Messina Denaro volevano i soldi da me perché avevo scritto queste cose, otterrà una risposta molti anni dopo, quando la procura di Palermo ufficialmente dirà che Matteo Messina Denaro era stato in Calabria, che addirittura prendeva l'aereo dalla Mezzia Terme, quindi persino Messina Denaro era qua. Immaginate quanto in qualche maniera pericolosa fosse queste organizzazioni mafiose colpevolmente sottovalutate. Ma in questo territorio, in tempi più moderni, si compie un altro strano meccanismo criminale. Viene posto in essere una dinamica che non ha uguali in altre zone d'Italia. Cioè qui, nell'area della Sibaritire, quella che era stata di Cirillo e poi di Santo Carelli, nasce un laboratorio criminale che vede insieme incredibilmente la criminalità nomade, la criminalità tradizionale italiana e gli albanesi. Gli albanesi forniscono droga, cioè l'erona e il fumo, in grandissime quantità. I kalashnikov, perché è pieno di kalashnikov in Albania, sono gli arsenali lasciati dal governo di Enver Oksha, stracolmi di armi e gestiscono in cambio, col permesso degli indraghidisti, le prostitute lungo la strada di 106. Gli zingari diventano clan, alleandosi con gli italiani. Quest'alleanza funziona fino a un certo punto, poi si rompe, quindi c'è uno scontro, una faida e si ricompone fino ai giorni nostri. Tant'è che in questo quadro va collocata anche l'uccisione di Leonardo Portoraro, avvenuta nel giugno di due anni fa a Villapiana, l'uccisione di Pietro Romare, del suo amico, nelle campagne di Corigliano Rossano quest'estate, le fucilazioni a colpi di kalashnikov, perché anche in quella zona dove agisce questo laboratorio, che è un unicum nel panorama nazionale criminale, stanno arrivando tutti i soldi collegati alla costruzione, all'ammodernamento, diciamo, alla nuova 106 ionica. Un altro laboratorio che nasce il laboratorio di Cosenza, dove un gruppo criminale, diciamo con una certa storia, che il gruppo Bruni si allea con gli zingari, che sono i cugini di quelli di Cassano, stessi cognomi, stessi nomi spesso, e creano un clan che fa paura all'andranca tradizionale, tanto da costringere l'andranca tradizionale ad entrare in rapporti, a diventare una struttura unica, per evitare uno sconto. E quindi vanno a raccogliere i soldi per conto dei clan due esponenti, Bruni, Michele e il capo, per conto appunto di questo gruppo, e Marco Patitucci, reso famoso ultimamente dall'aggiustamento di un processo avvenuto per parola dal giudice Marco Petrini, che lo ha aggiustato a Catanzaro, un processo per omicidio. Le confessioni sono state resi pubblicamente durante un'udienza davanti al GIP di Salerno, la magistratura di Salerno è competente ad indagare sui magistrati del settore di Catanzaro, ma hanno raccogliere i soldi per tutti. Quindi un clan laboratorio, pure questo, come quello della Sibaridina. Capite che qui siamo molto avanti, cioè che ci sono delle cose, diciamo, pazzesche, inimmaginabili, le cose che sono state nascoste alla stragrande maggioranza e che meritavano 700 pagine, perché non è facile articolare questo tipo di evoluzione. Io tra l'altro sono andato, come dire, saltando di pali in frasca, ma potrei anche indicarvi delle altre cose, perché quando Michele Bruni muore in carcere, questo clan fuso con quello tradizionale italiano addirittura assume il nome di nuova famiglia e ne diviene il capo Maurizio Rango, adesso condannato all'ergastolo con sentenza definitiva per omicidio, che è tra l'altro sposato con una nomade. Quindi anche qui si verificano delle cose impensabili. Ma perché la criminalità nomade è pericolosa? Perché è così temuta e perché riesce a diventare dominante, non solo a Cosenza, ma anche nella Sibarite. La Sibarite non è un posto normale. Quando voi arrivate nella piana di Sibari, capite perché i coloni greci decisero di rimanerli per sempre. Ci sono i fiumi, ci sono piantagioni meravigliose, peschetti meravigliosi, come dire, piante d'agrumi ettari, piantagioni di agrumi, eccetera, ma vi è anche una ricchezza commerciale spaventosa, cioè è incredibile, è una ricchezza turistica spaventosa, con villaggi che hanno 2.500 posti, cioè non c'è un posto in Calabria che ha una ricettività tale. Questa è la Sibarite. Diventare padroni là significa, aggiungendovi l'ammodernamento della stradale fintosiaionica, essere davvero miliardari. Ecco tutti gli omicidi, ecco questa pulizia, tra virgolette, etnica, fatta anche negli ultimi anni. Cosenza è un posto altrettanto appetibile dove si continua a negare e dove la mafia si muove con intelligenza, perché gli omicidi sono solo quelli necessari ormai, le intimidazioni si fanno senza mettere bombe, basta una bottiglietta, non fa rumore, il titolare fa finta di fare una denuncia e non denuncia nessuno, l'imprenditore sa già che deve pagare per stare tranquilli. E tutto viene, e gli imprenditori ci guadagnano perché prendono soldi, pagano i pollicci, fanno un sacco di soldi. È l'unico posto, l'area urbana di Cosenza, dove con l'edilizia in crisi totale, con la vendita degli immobili in crisi totale, nascono come funghi palazzi. Fatevi un giro, attraversate da Cosenza fino a Montalto, questa zona, salite verso Marano e troverete palazzi che sorgono là per tutto. Di chi sono quei soldi? Come sono stati costruiti? A chi sono destinati? E qui inseriamo un altro argomento, cioè la penetrazione dell'andrangheta, dell'altra area della Calabria, verso il nord della Calabria. Una penetrazione che diventa pure fattuale nei ambiti universitario. Ricordo la vicenda scoperta da Michele Prestipino, all'epoca procuratore aggiunto di Reggio Calabria, riguardante la fila del postaquino, che aggiustava gli esami per telefono, registrata. Poi questi atti vengono trasmessi ad altra magistratura, dalla magistratura antimafia di Reggio Calabria. Il fatto conclamato in una telefonata che era indistruttibile, c'è una prova reggina, è svanito nell'unla come spesso è accaduto per molte cose in questa zona della Calabria. E poi, anche qui nel disinteresse voluto di tutti, nell'aria che ha dato in Italia importanti parlamentari, che poi hanno ricoperto i ruoli di presidenza della provincia, di governatori della regione, si è negata l'esistenza della mafia in Sila, come se tutti i morti fossero morti perché i fucili sparavano da soli, magari caricati a pallettone. Sono stati uccisi allevatori, ragazzini di 16 anni in Sila, intorno ad interessi che erano legati al traffico di sostanze stupefacenti, alla copertura dei latitanti e soprattutto al mercato boschivo, dei tagli boschivi. Un mercato nel quale mettevano le zampe, le loro sporche zampe, anche esponenti delle istituzioni, che sono stati scoperti dalla magistratura certamente diversa la quella degli anni Ottanta, che la magistratura della direzione settuale antimafia di Catanzaro diversa, diciamo le cose come stanno, e che li ha, come dire, smascherati. C'è una mafia in provincia di Cosenza che non solo ha commesso omicidi politici, si è interessata di tutti i settori, ha ammazzato anche un bambino e l'omicidio di quel bambino è frutto di una strategia terroristica, terroristico-mafiosa sviluppata in quella sibaritide in cui esiste quel laboratorio, perché Coco Campolongo aveva tre anni, è stato ammazzato insieme al nonno, il bambino di Nigeria, voleva trafficare droga in autonomia e si faceva accompagnare perché era, diciamo, un sorvegliato speciale, quindi non aveva la patente, si faceva accompagnare in macchina dalla sua amante marocchina, una donna avvenente che naturalmente aveva trovato in lui un appoggio chiaramente con lui, e quindi camminava in macchina con questo bambino che degli ignobili assistenti sociali rimasti impuniti perché solo dei pazzi possono affidare ad un nonno pregiudicato, nel senso condannato con sentenza definitiva per spaccio di droga, con la madre del bambino in carcere, il padre del bambino in carcere, la nonna del bambino in carcere può affidare un bambino a suo nonno, che sta in casa con una marocchina, per carità, senza precedenti, che usa però come autista, perché lui ha la patente di data perché è un pregiudicato di un sorvegliato speciale, affida il bambino a quest'uomo che se lo porta a preso usandolo come uno scudo umano. La criminalità nomade, il laboratorio che agisce in quell'area della Sibaritire non tollera che gli annicelli faccia di testa sua, così convincono due suoi diciamo picciotti a tradirlo, lo invitano ad un appuntamento, lo ammazzano velocemente e con lui ammazzano questo bambino. La scena è questa, ve la devo dire perché dovete inorridire e dovete capire di che cosa sono capaci questi signori con la loro violenza. Il bambino terrenico non poteva essere un testimone, non aveva nessuna colpa, non è colpa sua se è nato a Cassano, in quel posto, in quel contesto sociale, non è stata colpa sua se degli assistenti sociali impuniti, lo hanno affidato al nonno. Il bambino sale sulla macchina con il nonno, siamo il 14 gennaio del 2014, salgono in macchina, la donna guida, il nonno è accanto alla donna, il bambino è dietro, questa macchina viene fermata al momento dell'incontro con i due picciotti traditori, i killer veri si avvicinano alla macchina, il bambino sta dietro, naturalmente appoggiato agli schienali dei due sedili, si avvicina il primo killer verso la donna che abbassa il vetro pensando voleste dire qualcosa, bomba, gli spara un colpo in testa, a questo punto il bambino terrorizzato, avete presente gli uccellini nelle gabbie quando vi avvicinate, che fa un uccellino? Si ritrae, si chiude in un angolo della macchina, il tempo di alzare lo sguardo, guardare il nonno perché l'altro killer a destra, alla sua destra, spara attraverso il vetro, uccide pure il nonno, dopodiché il killer che ha ammazzato la donna si avvicina al bambino che sta così, con la testolina così, in macchina coperta, esattamente come fanno gli uccellini quando hanno paura, lo piglia con una mano dal sedile posteriore, lo tira fuori, se lo alza a livello della testa gli spara un colpo a distanza avvicinata alla testa e lo ributta in macchina e poi bruciano la macchina. Questa è la mafia che agisce in provincia di Cosenza da 50 anni, questi sono, questi sono quelli della Sibaritina, ma che succede? Succede che Nunzio Garantino, che è il vescovo di Cassano, che da poco è stato nominato dal Papa segretario della CEI, inorridisce, è meridionale e dice al Papa quello che è successo. E Papa Bergoglio, che conosce la violenza di cui gli uomini sono capaci, perché viene dall'Argentina del dittatore Orge Videla, cioè del generale e dei suoi colleghi che hanno ridotto l'Argentina negli anni Ottanta, nei primi anni Ottanta, in una macelleria, prendevano i bambini delle famiglie che si opponevano al regime e li consegnavano ad altre famiglie, favorevoli al regime, i genitori che questi bambini li portavano sugli aerei, li buttavano da 2000 metri d'altezza perché scomparissero nell'aere. Siccome sa che cosa vuol dire la violenza, la domenica successiva, dopo che vengono il giovedì trovati i cadaveri carbonizzati di Cocò, di Giuseppe Anicelli, il nonna Idib Taussa, la donna marocchina, all'Angelus, quindi fronte al mondo, domenica, grazie a San Pietro, condanna senza appello quello che è successo. Ma fa di più, Francesco. Vedete, la Calabria è questa zona della Calabria, nella quale le collusioni tra larga parte della borghesia, larga parte dell'imprenditoria, larga parte della politica corrotta ha consentito all'andrangheta di diventare così, passa alla storia, tuttavia. Nel luogo dove è stato ucciso Cocò, dove è stato ucciso Giannino Rosardo, dove è stato ammazzato l'avvocato Sesti, dove sono state uccise donne, dove è avvenuto di tutto, dove si negava l'esistenza dell'andrangheta, arriva questo papa argentino, che da cardinale, pensate, la cardinale cucinava per i poveri, la cardinale, arriva a Buenos Aires, arriva in Calabria, decide a giugno di andare a Cassano, dove hanno ammazzato il bambino. Arriva in Calabria, in questo luogo veramente, apparentemente marcio per la presenza di questi assassini, barbari, analfabeti, oltre che assassini e barbari, degli analfabeti. E allora arriva il papa, va a visitare la mamma del bambino, incontra ovviamente il clero locale, poteva farne a meno, ma deve farlo per ragioni ovviamente istituzionali. E arriva in questa spianata, dove c'erano 250.000 calabresi, nella piana di Siba. Un giorno d'estate fa un caldo bestiale, i giornalisti sono al seguito, hanno il discorso di papa Bergoglio, cioè di papa Francesco. Sembra un discorso banale. Il papa è stato là sopra, a un certo punto comincia a parlare, prende i fogli, gli sposta e dice una cosa che nessun pontevice ha mai detto nella storia della Chiesa moderna. Dice ai mafiosi che sono scomunicati, sono fuori dalla comunione di Dio. Dice alle indranghetisti che non hanno spazio nella confessione cattolica. Non c'è spazio per loro, devono essere tenuti fuori. Dà coraggio a tutti quei vedi, quei donna a bondio, quei signori che prendevano i soldi per costruire le loro inutili, spesso, parrocchie. C'erano certamente poi preti che facevano tutto il contrario, per carità, combattendo e magari in silenzio nei quartieri e magari venendo ammazzato. Pensate a Don Pino Buglisi, a Don Peppino Diana, ma penso pure a tanti preti che non sono stati uccisi, ma che hanno fatto tantissime cose bellissime nei quartieri di cui nessuno ha mai saputo niente. Perché poi c'è pure il fastidio di questa Chiesa che vuole essere protagonista. Dà pure fastidio e dai questi preti che non hanno avuto coraggio li fa diventare Fra Cristoforo. Da donna a bondio li trasforma in Fra Cristoforo. Li costringe, tutti questi vescovi, tutti questi preti che non avevano coraggio a prendere posizione. Da quel momento in poi alza una barriera tra la Chiesa Cattolica e le organizzazioni mafiosi, quindi non solo l'Andrang. Quindi la Calabria che è quello che avete visto, quest'area del nord della Calabria che è infettata da queste connivenze, da queste colpevoli sottovalutazioni, da tutto quello che vi ho raccontato, impastata questa terra del sangue, spesse volte innocente di tanta gente, diventa il posto nel quale la storia, cambia. Cassano viene ammazzato un bambino di tre anni, il posto che verrà ricordato nei secoli come il posto in cui un pontefice massimo della Chiesa di Roma, come dire, scomunica i mafiosi. Neanche Giovanni Paolo II è diventato santo, l'ha fatto questo. Giovanni Paolo II nella valle di Reggento lancia un anatema, dice dopo un lennesimo grave omicidio compiuto, dice ai mafiosi, alzando l'indice, pentitevi un giorno verrà il giudizio di Dio, ma non li scomunica. Bergoglio no, prende l'aereo, viene in Calabria dopo quel gennaio 2014 e scomunica i mafiosi. Come mai era accaduto nella storia? Credo che per sommi capi abbia potuto raccontarvi delle cose, tante altre ve ne dovrei dire, nel senso che dovrei farvi una serie di esempi di connivenza. Vi posso anche aggiungere un'altra cosa, perché anche questa è una figura che mi ha particolarmente colpito, perché ritorna sempre, fa la vittima e ritorna sempre. La provincia di Cosenza, quindi l'Alta Calabria, è la prima provincia nella quale nella storia giudiziaria calabrese è stato condannato un politico per la situazione mafiosa. Si chiama Pino Tursi Prato, è lo stesso politico che compare nelle indagini poi, quindi fatto il carcere per modo di dire, è tornato in vita, addirittura si è candidato al Senato, ha contribuito anche da quello che mi raccontano, ma le fonti sono buone, addirittura organizzare una campagna comunale del PD, lo ritroviamo nelle carte dell'inchiesta Genesi nata per merito di Nicola Cratteri e dei suoi magistrati che hanno trasmesso queste carte scottanti a Salerno, lo troviamo lì, che cerca di corrompere i giudici fregando soldi pure all'avvocato Sarago, che è uno che vorrebbe corrompere i giudici per salvare il padre, che è una specie di boss dell'area di Batolato e lo ritroviamo insomma in tutte le inchieste. Sappiate che l'Alta Calabria dove si negava l'esistenza della mafia ha avuto anche questo primato, cioè il primo politico condannato con sentenza definitiva per la situazione mafiosa in Calabria e questo signore che poi abbiamo ritrovato recentemente nelle ultime inchieste addirittura della procura di Salerno. Non saprei cosa dire di più, cioè dovremmo approfondire dei temi, se volete che l'approfondisca lo faccio, altrimenti posso dirvi pure che un cosentino importante era alla corte di un grande boss, forse il più grande boss del Nord America tra gli anni 90 e la prima decada degli anni 2000, cioè di Vic Rizzuto. Alla sua corte c'era Moreno Gallo, che era di Rovito, che poi ha tradito Vic Rizzuto passando con Raymond Gessling, che era un vecchio alleato di Vic Rizzuto che approfittando del fatto che Rizzuto era stato arrestato a Montreal per un crimine commesso negli Stati Uniti, aveva deciso di prendersi il clan, si era alleato con uno della famiglia storica, una famiglia Bonanno di New York, si chiama Sal Montana e in questo contesto Moreno Gallo aveva tradito il suo vecchio cavo passando con questo. A un certo punto poi Rizzuto è uscito dal carcere e insieme a un solo uomo, non gli era rimasto nessuno vicino, gli avevano ammazzato il cognato, il consigliore, il padre, il figlio, eccetera, è riuscito a farsi giustizia ed ha rintracciato il traditore Moreno Gallo di Rovito nel ristorante Forza Italia di Acapulco, pensate, lo hanno ammazzato lì perché Gallo avendo capito che era tornato Vic Rizzuto era scappato ad Acapulco, quindi ci sono anche oltreoceani importanti figure comunque legate alla criminalità organizzata, quella cosa nostra, The Sixty Family si chiama la sesta famiglia creata dalle cinque famiglie americane in Canada, a Montreal e a Toronto e lì ci sono anche dei calabesi in particolare, dei cosentini che tuttora contano parecchio. Allora senta dottore, tanto noi diciamo con lei chiediamo martedì sera e quindi ritorneremo su una serie di questioni. Ora per quanto concerne la serata, cosa vuol dire secondo lei fare antimafia oggi a queste latitudini? C'è un sistema gigantesco di connivenza e complicità istituzionali, con una magistratura in alcuni territori, perché non sono mica tutti come Nicola Gratteri e bisogna sottolinearlo. In una magistratura spesso e volentieri silente, dormiente per non dire, guardando al recente passato, anche complice in maniera dichiarata e spesso spudorata. Come si fa antimafia in una terra come questa che non è riuscita negli ultimi vent'anni, trent'anni, per esempio dagli assassini di Falcone e Borsellino a costruire movimenti di massa con tutti i loro limiti che però diciamo in qualche modo hanno animato la resistenza civile per esempio a Palermo, per esempio in Sicilia, per esempio a Napoli, per esempio in Campania il movimento anticamorra. Cioè la Calabria su questo forse è un po' indietro. lei che cosa ne pensa? Ma guardi, io penso che, cioè era certamente indietro, quando andavo a scuola io, facevo il liceo, nessuno veniva diciamo a raccontarmi quello che succedeva. Avevamo paura pure di pronunciare i nomi dei mafiosi, abbassavamo la voce, li indicavamo per luoghi, pur di non fare no, quelli della montagna, quelli della zona della fontana, capito? Anche a casa quando si parlava, ero in famiglia, si abbassava improvvisamente la voce e si faceva genere mafiosi. Poi c'è stata questa rinascita, con i ragazzi si sono abituati nelle scuole a parlare di questo, hanno trovato interlocutori che hanno fatto queste cose, nell'università hanno trovato personaggi come lei che si sono impegnati a parlare di queste cose, sono cose scomode, voglio dire, è più facile fare altro, no? Che mettersi in una situazione del genere a raccontare queste cose, a parlare di queste cose. Però questo ha fatto crescere, come dire, la consapevolezza intanto. Poi ci sono stati, come dire, anche imprenditori coraggiosi, non tutti sono stati collusi. Oddio, gran parte lo è stata, perché poi collusione significa non solo mafia, collusione significa pagare mazzetti a politici mafiosi, funzionari che gestiscono tutto il sistema delle licenze, dei lavori, eccetera. Quindi un sistema più complesso del banale sistema estorsivo, quindi un sistema, ma ci sono tanti che alla prima chiamata dei mafiosi, chiamata intendo richiesta di denaro, hanno denunciato da soli e magari hanno trovato persone serie, perché pur tra investigatori a volte corrotti o pavidi si trovano uomini e donne coraggiosissime. Il primo che ho conosciuto nella mia vita si chiama Agostino Cordoro, l'ho incontrato quando da solo ho messo in piedi un'indagine che è rimasta nella storia, ma era un uomo coraggioso. E quindi hanno incontrato sulla loro strada, hanno incontrato magistrati coraggiosi, magari meno dediti ad andare a giocare a pallone, a fare le feste, a frequentare yacht di personaggi, come dire, importanti che tendono a cooptarti. Immagini lei se volesse quante feste farebbe sugli yacht, nei migliori locali, come li inviterebbero di salotto in salotto. Io non l'ho mai visto in un salotto, professore Costano, e lei non l'ha mai visto in un salotto. E io non sono un magistrato, né un poliziotto, e lei non è né un magistrato né un poliziotto. Quindi ci sono anche persone serissime che fanno il loro lavoro con equilibrio, perché non bisogna essere giacobini, con equilibrio, che hanno il coraggio di applicare la legge, che hanno il coraggio di garantire con il loro coraggio agli altri cittadini di essere coraggiosi. E quindi hanno incontrato questo, e questi magistrati ci sono, non solo inquirenti, ma anche giudicanti, e poi credo che uniformi di associazionismo ce ne siano. Per esempio a Cosenza c'è un'associazione dedicata, che si intitola, intitolata Lucio Ferrami, associazione di racket è funzionante, Lucio Ferrami è un eroe, solo che siccome è morto in Calabria, a guardia piemontese, negli anni Ottanta, è morto dieci anni prima di Libero Grassi, e ha fatto dieci anni prima quello che poi avrebbe fatto Libero Grassi. Libero Grassi è diventato famoso perché stava a Palermo, nella stagione dell'antimafia. Lucio Ferrami è rimasto sconosciuto, abbandonato, nell'oblio, per lungo tempo, fino a quando non gli è stata dedicata l'associazione antimafia, antiracket, e poi un presidio di Libero, eccetera. L'attuale referente di Libera Cosenza, appena ricostituita, è Franca Ferrami, tra l'altro una giornalista che lavora anche con me, una persona serissima, sorella di Lucio Ferrami. Quindi ci sono stati in passato, dimenticati, ma ci sono stati, imprenditori coraggiosi, non collusi, e ci sono tuttora imprenditori coraggiosi, e non collusi. Non bisogna sentirsi sconfitti, bisogna combattere, io penso questo, ma non facendo degli eroi, perché noi, con questa versione, diciamo, professore, dei giornalisti eroi, io non credo, è una cretinata questa, ci sono i giornalisti e basta, non è che dobbiamo anelare a diventare i martiri, non è così, noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Ha scritto cose, ha fatto cose che molti suoi colleghi, sinceramente, in Calabria non hanno neanche pensato di fare, non hanno neanche pensato di fare. Sì, ma ci sono colleghi, professore, ci sono anche colleghi che hanno fatto più di me, voglio dire, ma che non sono degli eroi, come non lo sono io, cioè noi siamo delle persone che fanno il loro lavoro. Allora, ecco, se noi facciamo il nostro, ciascuno, come dire, si impegna senza paura, senza paura. Hanno aggredito di Archite a settembre, Michele Santagata, è stato un fatto grave, ma Michele Santagata non ha avuto paura, ha denunciato e i responsabili si trovano tuttora agli arresti, il Tribunale della Libertà ha confermato quegli arresti, è intervenuto alla procura distrettuale di Catanzaro, Nicola Gratteri, col quale, peraltro, come dire, gli architemi che è stato mai tenero, ma lo Stato c'è, c'è, le persone ci sono, lo Stato dipende dalle persone, da noi, allora noi, io penso si possa fare antimafia, senza fare buffonate, senza sbraitare, senza accicliarsi ad eroi, senza fare cretinaggini che non hanno senso, senza prendere soldi, soprattutto. Ecco, volevo anche dire, ma lo si sa, ma lo ripeto, perché non vorrei che i diritti di autore dei libri che scrivo io vanno tutti in beneficenza, vi dico pure a chi, perché si può verificare alla fondazione, cuore immaginato, di Maria, rifugio delle anime, di Natuzzevolo, di cui io sono devoto, di Dio, tutto quello che faccio, lo faccio per passione, perché mi va. Dobbiamo fare le cose. Possibile concorrenza. Non neanche esagerare nei toni, perché... No, dico neanche esagerando nei toni, perché magari uno poi si lascia prendere la mano, è sempre un invasato, non è così. Bisogna fare le proprie cose, basta, con coraggio. Puoi aiutare, però, perché se uno di questa catena virtuosa finisce male, lo minacciano, lo picchiano, bisogna stargli vicino, bisogna aiutarlo, bisogna prendere posizione, non bisogna ritrarsi, mandare avanti gli altri, perché questo non va bene, bisogna metterci la faccia, poi si può sbagliare, l'importante è sempre sbagliare onestamente e portare avanti questa battaglia, che è una battaglia pure culturale, no? Insegnare ai nostri ragazzi che non è importante, chi ha una macchina di 300 mila euro perché smercia cocaina, o fa ammazzare la gente, o fa estorsione, o fa affari con un imprenditore colluso, con un prodigo colluso. È importante ed è bello chi invece magari sa parlare di tantissime cose, conosce la letteratura, si emoziona di fronte a un dipinto, piange se sente una bella poesia, piange se vede un bel film, questo è essere belli e importanti, non avere per forza soldi, ruoli, eccetera. Allora se noi insegniamo questo a noi stessi e agli altri, allora vedrete che le cose cambieranno. Ora sembra un santone, però basta. Mi sembra un epilogo estremamente dignitoso di una serata che ha fatto un esercizio pubblico di memoria, ha fatto un esercizio pubblico di verità. Noi chiudiamo, chiuderemo con lei martedì sera, insomma questa prima parte, chiamiamola così, di lavoro dell'anno accademico 2021, poi ci rivedremo, speriamo in un anno il 2021 meno amaro, meno condizionato dalla pandemia come quello che purtroppo ci stiamo per lasciare alle spalle. Quindi grazie ai nostri ragazzi, grazie al dottor Arcangelo Badolati, grazie per questo esercizio che ha fatto in tutti questi anni di tenere in piedi una narrazione, non solo non scontata, ma che ha consentito a tanti di noi di crescere con la consapevolezza di vivere un territorio completamente differente da quelle narrazioni ipocrite che spesso e volentieri, non solo la politica, ma insomma anche la dimensione intellettuale che ha delle responsabilità. Io insomma i passaggi che lei diciamo ha fatto anche sull'università, li ho colti, li condivido diciamo pubblicamente, mi pare che i ragazzi insomma stiano manifestando con chiarezza insomma anche il loro gradimento per quello che abbiamo fatto, ma insomma se c'è una complicità della politica, c'è una complicità della magistratura, c'è una complicità dell'impresa, c'è anche una complicità del sistema culturale che in tutti questi anni non ha detto con chiarezza da che parte insomma, no? Perché il problema di fondo è quando non ci si schiera, si finisce per restare in questa enorme sfera grigia che lei sostanzialmente sia con l'attività storiografica, quindi scientifica, sia con quella giornalistica, quindi il mestiere, devo dire insomma ha francamente diciamo messo in discussione in anni e anni diciamo di lavoro con dignità, con onestà intellettuale che tutti non solo le riconosciamo ma che sinceramente diciamo dobbiamo per così dire divulgare perché a mio avviso c'è bisogno senza diciamo cadere nella retorica diciamo degli eroi però c'è bisogno anche di dire che alcune persone hanno fatto scelte diverse, hanno avuto la dignità e il coraggio di non girarsi dall'altra parte, hanno guardato in faccia il male e hanno provato a combatterlo in maniera frontale. Lei questo lo ha fatto perché diciamo un esercizio di memoria di questo genere non c'era e magari qualche mio collega insomma avrebbe dovuto anche scriverlo occupando sino di storia contemporanea e di storia sociale, quindi questo secondo me la dice lunga su tante e tante questioni. Allora grazie ai nostri ragazzi che come vede dottore insomma stanno scrivendo, io non riesco a mandare in onda tutti i commenti ma insomma resteranno evidentemente diciamo nelle tratte delle varie sorgenti dalle quali abbiamo diciamo trasmesso, ringraziamo anche attraverso di lei, è una cosa che spero di poter fare insieme con l'osservatorio nazionale sui fenomeni mafiosi Falcone e Borsellino e una sua creatura ed è anche molto bello perché recupera la storia bella di dignità, di coraggio di un uomo come Carlo Mellea che secondo me dovremmo ricordare in qualche iniziativa, non appena potremo rioccupare fisicamente i nostri territori, i nostri spazi di vita, ricordare Mellea, spiegare perché è un osservatorio nazionale sui fenomeni mafiosi, diciamo ha coinvolto tanta gente, tanta gente di valore e anche questo è il modo per fare antimafia, cioè costruire realtà sane che diciamo cercano nuove relazioni istituzionali per parlare un linguaggio plurale, il noi collettivo insomma che lei diciamo ha sempre fatto, io una cosa la dico diciamo non la volevo dire in esordio ma lo dico in questa prima chiusura ecco lo dico ai tanti studenti perché insomma loro sono testimoni glielo dico anche nell'aula digitale, se oggi noi abbiamo un percorso di riflessione critica anche in questa università io lo devo principalmente quindi istituzionalmente noi lo dobbiamo al dottor Arcangelo Badolati senza il quale io non sarei stato francamente capace di reggere eh insomma se non per pochissimo perché il mondo accademico è un mondo estremamente complesso ecco mettiamola così allora senza quella benevola vicinanza che è diventata in molti momenti protezione ideologica no eh un percorso di antimafia francamente non sarebbe stato possibile quindi non so se questo è un merito ma io mi sento di riconoscerglielo pubblicamente no eh perché gli esercizi pubblici hanno un valore educativo quando diciamo eh si fanno con il cuore con la ragione e con la progettualità che abbiamo ripreso insieme e che secondo me insieme a strutture come l'osservatorio nazionale sui fenomeni mafiosi di cui lei è direttore scientifico dobbiamo continuare no diciamo a costruire no relazioni progetti e resistenze quindi grazie al dottor Arcangelo Badolati grazie ai nostri studenti eh con il dottor Badolati chiuderemo martedì ventidue alle ore diciannove sempre sulla pagina e ovviamente ringraziamo anche Calabria News ventiquattro che ha sposato questo tentativo di divulgazione no diciamo chiamiamolo così di un modo vero perché il dottor Badolati rappresenta un modo vero di raccontare in maniera critica tanti luoghi del nostro passato nella speranza di avere insieme tutti un futuro diverso. Allora grazie dottore diciamo ci lasciamo qualche secondo e chiudiamo diciamo la diretta